Una mostra dai toni decisamente vintage e anche un po' nostalgici, quella che si è svolta a Palazzo Pintacuda. Le sale dell'Accademia del Lusso di Palermo si sono trasformate infatti in un vero e proprio museo della moda, in cui abiti del mitico Gianni Versace hanno preso vita in uno show di stile vintage che ha tutto il sapore della moda da altri tempi, quella fatta di innovazioni e stravolgimenti di costume. Fullard in seta con stampa, borse in pelle con la medusa, l'iconico marchio che contraddistingue la casa di moda. Ci sono le indimenticabili camicie oversize con stampe color oro, rosso e blu, di cui proprio Gianni Versace ne fece un inno alla femminilità. Ci sono i tagliali in perfetto stile anni 90, pensate per le donne in carriera e tutto il mondo. Non mancano le concitature dorate, le grippe a geiello e i completi in perfetto stile retro. Noi qua stiamo attraversando forse la parte più bella della collezione di Versace, quando lui finalmente è riuscito a esprimersi in modo reale con la sua particolarità. Si è espresso sia nel genere dark, nero e colorato, sia anche poi quando ha affrontato tutti i colori pastello che vediamo qua in esposizione. L'abito che preferisco perché rappresentando lo stile Versace è molto elegante e raffinato, qualcosa che forse pensavano che non si potesse realizzare in Versace vedendo la sua produzione iniziale. Io insieme all'altra curatrice che è Daniela Balsamo abbiamo pensato, vedendo questa collezione, che sarebbe stato meraviglioso farla vedere non soltanto ai nostri studenti ma anche alla cittadinanza, quindi a Palermo. È un po' uno scrigno che si è aperto sotto i nostri occhi ed è stata un po' la spinta che ci ha fatto partire con una serie di eventi che poi saranno ripetuti anche su altri stilisti, sempre della collezione Lagna. La particolarità dello stile Versace vive nella libera interpretazione di elementi decorativi che vanno dalla Magna Grecia passando per il barocco, la più attuale pop art. Un omaggio ai maestri della moda, secondo l'accezione dell'Accademia del Lusso, che colloca Gianni Versace all'interno di quei grandi del fashion system che hanno saputo lasciare un segno, anche dopo un tragico epilogo. Un segno indelebile nel costume e nella moda attuale che ci riporta inevitabilmente a quei mitici anni 90, ai anni delle top model, dei taillers, dello stile androgino, dei colori e di un indimenticabile Gianni Versace. Grazie. Grazie.